Non devo dare il benvenuto al professor Rolandi perché è a casa, quindi non è questo lo scopo di questa brevissima introduzione. E più che altro una scusa per darci un'occasione per fare un applauso di congratulazioni a Gigi e a tutta la squadra. E menzionare che la presenza della scuola in questo progetto e in particolare in CMS è una presenza importante e storica. Gigi Rolandi ce l'abbiamo già sulla trasparenza, abbiamo anche Lorenzo Foa che è qui con noi, che è uno dei padri fondatori di questo esperimento, poi numerosissimi studenti di corso ordinario di perfezionamento, va menzionato anche Franco Ligabue, a tutti loro moltissime congratulazioni e soprattutto la parola a Gigi che ha il compito oneroso di parlare di questa scoperta, di questo risultato molto importante soddisfacendo gli interessi dei presenti che vanno da specialisti a non specialisti e soddisfacendo gli interessi di coloro che vedranno questa cosa sul nostro sito in rete. Compito improbo, ma sono sicuro che ce la farai, ancora molte congratulazioni. Grazie moltissimo Fabio, l'applauso va esteso alle 3.000-4.000 persone che lavorano in Atlas e CMS, questo come ben sai sono dei progetti ventennali e Lorenzo ha iniziato a lavorare su CMS più di vent'anni fa. Che cos'è il bosone di Higgs? Il bosone di Higgs nasce, le fondamenta sono nella teoria dell'interazione elettrodebole. L'interazione elettrodebole è dovuta a Glacier, Weinberg e Salam, ha unificato l'interazione debole elettromagnetica. Il fotone è quello che porta all'interazione elettromagnetica, il fatto che noi ci vediamo in questo momento e il W e la Z che sono responsabili dell'interazione debole, la radioattività, il fatto che il sole brucia per esempio, sono due aspetti della stessa cosa. Tutto è unificato in questa scrittura strana che spiega l'unificazione tramite la teoria dei gruppi. In questa unificazione però c'è un punto fondamentale che ho scritto qui, la massa del fotone è zero, la massa del W è 80 GeV e la massa della Z è 91 GeV, misurate con precisione all'Eppe e al Tevatron. Perché uno è zero e gli altri sono massivi? E cosa rompe la simmetria tra i portatori, le forze dell'interazione elettrodebole? Negli anni 60 venne messa avanti una spiegazione possibile, prima in un articolo di Englert e Braut che avevano avuto l'idea di come rompere la simmetria e poi da Peter Higgs che dava enfasi specialmente sull'aspetto della massa. Qui vedete Peter Higgs in visita all'esperimento CMS e questo François Englert e Robert Braut che è morto qualche anno fa. Il campo di Higgs può essere anche usato per dare massa ai fermioni, alle particelle di materia che qui sono rappresentate con il valore della loro massa e con una superficie che è vagamente proporzionale al valore della massa stessa. Vedete, se uno passa la massa piccolissime dell'ordine di 5 MeV fino a arrivare a massa dell'ordine di 1800 GeV, questo è il trasparente vecchio, 1770 GeV che è la massa del top quark. Le due aspetti sono diversi, uno può avere la rottura della simmetria elettrodebole spiegato dal meccanismo di Higgs indipendentemente dal fatto che vengono date le masse a leptoni o si possono aggiungere alla grangiana dei termini che dando le masse, le masse dei vari leptoni. Quindi il, del leptoni di quark. Quindi diciamo il meccanismo di Higgs è fondamentale, l'Higgs non è una particella come altre risonanze che abbiamo visto, ma è proprio qualche cosa legato alla natura stessa del concetto di materia, della massa, la materia che acquisisce massa. Diciamo, se non ci fosse il campo di Higgs, intanto voglio fare una precisazione, la massa, nel senso della massa quella che abbiamo noi, dei protoni e dei neutroni, dei nuclei, non viene solo in minima parte al meccanismo di Higgs, se lo leggete qui, 5, 8, questi sono i MeV, la massa dei quark che fanno il protone. Quindi la massa dei quark che fanno il protone è 18, secondo i numeri scritti qua sopra, fra virgolette, 18 MeV, rispetto al GEV della sua massa. Il grosso della massa del protone viene dall'interazione di QCD, di quantum quantum dynamics, che lega i quark. Quindi la massa in generale, Adam, I'm speaking Italian, it's okay for you? La massa dei protoni è data principalmente alla QCD, però la massa dei costituenti è data dall'interazione del bosone di Higgs. Se non ci fosse il bosone di Higgs, le particelle sarebbero senza massa, non esisterebbe il nucleo di idrogeno, le particelle si muoverebbero alla velocità della luce, il concetto di tempo è un concetto un po' strano, forse tutto si muove alla velocità della luce, quindi l'universo sarebbe fondamentalmente diverso da quello che noi osserviamo. Questo è un trasparente che spiega il meccanismo che salto, lo lascio lì per il piacere di chi lo vuole leggere, però il concetto, voglio fare un esempio semplice, il concetto di rottura della simmetria. Al tempo T uguale 0, T uguale 0 più epsilon, l'interazione elettrodebore era simmetrica, le masse di W e della Z erano 0 e il fotone pure. Dopodiché quando si è raffreddato, al tempo più epsilon più un po' dopo, si è rotta la simmetria nella stessa maniera con cui, per esempio, se io piglio un materiale ferromagnetico e a un certo punto lo raffreddo e questo qui può avere, sotto la temperatura di Chiuri, può avere un asse preferenziale che è casuale, insomma, rompendo la simmetria dello spazio. Il campo di Higgs è un campo che permea l'universo e ovunque. Il suo valore di aspettazione sul vuoto, cioè quanta energia mi aspetto in qualsiasi volume, è legato alla massa del bosone W e alla carica elettrodebole. Noi abbiamo misurato la massa, abbiamo misurato la carica e quindi conosciamo quanto vale questo V, il valore di aspettazione sul vuoto del campo di Higgs. Però invece la massa del bosone di Higgs è ignota, perché la massa del bosone di Higgs è data da questa formula in cui lambda non si conosce. E facendo adesso un attimo un break, è importante, se uno vede il valore di quanto vale l'aspettazione di un vuoto del campo di Higgs, vale circa 250 G. E questo qui corrisponde ha una densità di energia di 5 in 10 alla 55 GeV per metro cubo, che è un'energia immensa, che deve essere paragonata con quello che vediamo nell'universo, che è un protone per metro cubo, cioè un GeV per metro cubo. C'è una discrepanza di solo 10 alla 55 ordini di grandezza. E questo qui è un problema assolutamente affascinante, perché vuol dire che c'è una cosa importante che non abbiamo capito. Se vogliamo spiegare con lo stesso linguaggio quello che vediamo nel modello standard delle particelle elementari e quello che vediamo in astrofisica, dobbiamo trovare la spiegazione di questa discrepanza così importante. La teoria elettrodebole è stata testata a LEP e a SLC con grandissima precisione. Qui vedete alcune misure, per esempio la larghezza della zeta verso l'angolo di Weinberg, che è appunto l'angolo della rottura della simmetria. Qui vedete quanto spesso la zeta decade in due leptoni verso la massa del W. E qui vedete tutte le misure elettrodeboli come globalmente che tornano fit, nel risultato di un fit alla teoria elettrodebole generale, in cui è riportato il numero di deviazioni standard. Vedete, a parte la simmetria avanti e indietro dei B, che è a 3 sigma, il fit dà un accordo molto buono, che la probabilità di avere tra tante misure 1 a 3 sigma non è una probabilità trascurabile. Però questo qui non è una prova diretta del meccanismo che dà la massa ai bosoni vettori e che rompe la simmetria. La precisione degli esperimenti LEP e LHC è tale che sia sensibile alle correzioni radiative della teoria elettrodebole, cioè non solo a scambi diretti di W, Z e fotoni, ma anche al fatto che questi scambi hanno delle correzioni dovute a propagatori, a particelle virtuali che si legano alle particelle che vengono scambiate. E in questi loop può andare tantissima roba, tra cui anche il bosone di Higgs. E quindi, con la precisione degli esperimenti di LEP, uno può, assumendo la teoria di Higgs corretta, può avere una predizione indiretta della massa dell'Higgs. E questo è rappresentato da questo grafico in cui c'è qui il chi quadrato del fit elettrodebole, di quel fit che vi ho mostrato nel trasparente prima, e qui c'è la massa del bosone di Higgs. Il minimo è intorno al 94 GeV, la dipendenza è, l'errore è grande perché stiamo parlando di termini piccoli piccoli, sono correzioni radiative a termine leading, quindi sono effetti di qualche per cento sulle misure che vengono fatti. E questo qui in giallo è la parte già esclusa dall'EP e dall'LHC. E quindi, diciamo, la zona interessante del fit elettrodebole è questa. Però insisto che tutto questi sono solo check di consistenza, non sono una prova diretta del meccanismo di rottura della simmetria di Engler, Brought e Higgs. La prova diretta è trovare il bosone di Higgs e misurare le sue proprietà. Questo qui è quello che serve per provare che il meccanismo di Higgs effettivamente è quello che rompe la simmetria. La ricerca del bosone di Higgs è uno dei goal primari per il programma di LHC. Gli esperimenti sono stati disegnati per la ricerca del bosone di Higgs. Il CMS ha costruito un calorimetro con 80.000 cristalli di 2x2 cm, che è un oggetto assolutamente fantastico, per avere la risoluzione sulla misura dell'energia dei fotoni per poter misurare il bosone di Higgs. LHC ha funzionato in maniera fantastica. Questo qui vedete, questo è l'anno scorso, vedete la luminosità per giorno, misurata in picobarne inversi per giorno. Questo qui è il 2011, questo qui è il 2012 e questo qui è quello che abbiamo preso in tutto il 2011, questo qui è dove eravamo fino al 4 di aprile, perché il trasparente lo fa fino al 18 giugno e questo qui si vede molto meglio in questo grafico, la luminosità presa in mesi, l'anno scorso e quest'anno sta andando su come una roccia e praticamente siamo riusciti a mettere sul nastro per la conferenza di Melbourne tanti dati quanti avevamo raccolto l'anno scorso. Gli esperimenti hanno fatto uno sforzo incredibile per riuscire a analizzare i dati in uno spazio minimo di tempo, diciamo 15 giorni, 20 giorni per poterli ricalibrare e analizzare e siamo arrivati al Melbourne con i risultati pronti. Da ricordare che Atlas e CMS funzionano benissimo, sono veramente strumenti fantastici, sono capaci di misurare gli elettroni, i muvoni, quelli che si chiamano leptoni, i fotoni, i jet e l'energia trasversa mancante anche nelle condizioni molto difficili di alto pile up. La luminosità di LHC è molto grande, però stiamo funzionando a 50 nanosecondi fra due bance, che è un doppio di quello di disegno, quindi vuol dire che questi bance sono pienissimi di protoni e quando si scontrano non avviene solo un evento, e questo qui, in una singola collisione, quindi contemporaneamente in tempo, avvengono tutte queste tantissime collisioni di protoni che producono tracce. Gli eventi che noi cerchiamo sono molto rari, quindi capiteranno solo in una di queste collisioni, ma tutte queste altre tracce provocano una specie di rumore di fondo col quale uno si deve confrontare e questo, diciamo, funzionare bene in queste condizioni era nel disegno di Atlas e CMS e diciamo, con il mio giudizio personale, funzionando molto meglio di quello che io avevo pensato potessero funzionare in queste condizioni. Nel modello standard l'IGS viene prodotto secondo vari meccanismi e la cosa importante in questo grafico è guardare quant'è la sezione d'urto, che è a livello di 10 picobarn, quindi dato che abbiamo raccolto 10 fantobarn inversi, 10 picobarn su 10 fantobarn inversi vogliono dire 100.000 eventi. Quindi in tutti i due esperimenti sono stati prodotti 100.000 eventi di IGS. Però la ricerca dell'IGS è come un per rimettere sul nastro. Vi ricordo che sia Atlas che CMS possono mettere sul nastro solamente un evento ogni qualche centinaio di milioni. Quindi riconoscere elettronicamente un evento di ricadimento di IGS che assomiglia molto a un evento di QCD è difficile. Quindi questo numero di 100 milioni è molto bello, però alla fine, come vedrete, ce ne rimangono pochi pochi. E questo qui mostra un po' quello che ho detto. La sezione d'urto è 10 picobarn dovete confrontare con i 30.000 picobarn della sezione W più jet, oppure con i 165 picobarn della protezione TT barra, che sono protezioni molto copiose, con energia mancante, tutti oggetti con le pote, insomma quindi con caratteristiche simili a quelli dell'IGS. Ora ci concentriamo su un IGS di 125 jeb, perché ci erano stati già a dicembre segnali che l'IGS se c'era era lì. L'IGS in questo grafico, vedete, in funzione della massa dell'IGS, ma ho tirato una linea 125, come l'IGS decade in quali canali? Vedete che il canale principale è BB barra. BB barra vuol dire decade in due quark che fanno due jet. L'evento più stupido di QCD sono due jet. Quindi questo canale è un canale difficile, non si può andare a studiare in maniera semplice, però riusciamo a farlo in condizioni particolari. Gluone, gluone, neanche a parlarne, perché anche quello lì sono due jet. Tau più, tau meno, ecco, qui comincia ad avere un leptone e quindi comincia ad esserci un qualche handling. W, 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 W certamente, perché due W nello stato finale danno un'identificazione importante, però solo quando i W decadono in leptone, perché quando i W decadono in ladroni vedo jet e di nuovo assomiglia alla QCD. Questa cosa che sta qui sotto, gamma-gamma, che è un decadimento che avviene non all'ordine albero, non all'ordine diretto, ma avviene tramite loop, questo qui dà una segnatura che invece in QCD non c'è o c'è poco, diciamo, sono due fotoni. Quindi questo qui è l'evento che noi andiamo a studiare e anche ZZ, quando la Z decade in leptoni, è un evento molto molto pulito. Quindi quello che noi studiamo sono gli eventi a quattro leptoni che hanno un branching ratio di 1,2, 10 alla meno 4. Quindi vedete, dai 100 milioni che avevo fatto, dai 100 mila is che avevo fatto, devo moltiplicarli per 1,2 e 10 alla meno 4 per vedere quanti di questi mi vanno in quattro leptoni e così via. Quindi quattro leptoni, gamma-gamma, due leptoni, due neutrini con il W che decade in due leptoni e due neutrini, tau-tao e BB. Questo per darvi l'idea, in dieci inversi fan... BB, BB barra e tau-tao, sì, sì, sono questi due canali qua, tau-tao e BB barra. Per darvi un'idea, nella statistica che abbiamo fatto, ci sono circa 20 eventi prodotti di X che va in quattro leptoni in CMS o in Atlas. Qui moltiplicando sezionato e branching ratio per la statistica. Dopo questi quattro eventi prodotti, però su quattro leptoni il fatto che uno vada fuori è facile, fuori dall'accettanza, che è comunque limitata. Quindi alla fine finiamo con sei eventi, però con un background di un evento. Quindi se riesciamo a chiappare quei sei eventi e il background è così piccolo, questo è un segnale molto forte. La probabilità che uno flutti a sei è molto piccola. Gamma-gamma, ne facciamo circa 400 con risoluzioni massa efficace, ne pigliamo 200 con la metà, che è un numero importante. Vedete, perché qua sono due oggetti qua 4, quindi con due l'accettanza è migliore ovviamente, però c'è un fondo di 3.020 nei due GEV di risoluzione. Quindi bisogna andare a guardare 200 verso 3.000, però non è hopeless, perché quello che conta qui è la radice di 3.000, di quanto fluttuo è il black cloud, che rispetto a 200, si capisce, come vedete in questo momento, si vede. E la Z è in due leptoni, paghi due volte il 3% della Z che va in due leptoni. E come il WWW che va in due leptoni e due neutrini, paghi due volte il 10%. Fai 1.620, cioè non c'hai massa di risoluzione in massa perché hai due neutrini nello stato finale e selezionando le cose devi confrontare 60 eventi contro 300. Tau ne fai tantissimi, però c'è poca risoluzione in massa, 14 verso 140. B ne fai tantissimissimi, 100.000, ma è così difficile selezionare i canali B giusti che alla fine rimani 8 verso 80. Queste sono giuste figure per darvi un po' un'idea di dove andiamo a parare. L'analisi tipica è fatta in questa maniera. Si disegna una selezione che a una certa massa minimizza un estimatore, per esempio segnale verso radice di fondo. E in questo disegno, vedete, questa è la selezione, questo qui sono i dati, questo qui è la simulazione, la somma del background con gli errori è data da questa cosa quadrettata e questo qui è quello che farebbe un segnale di un X a 120 jeb per 5. Quindi poco poco. Spesso questo qui viene fatto tagliando lo spazio delle fasi. Uno fa una selezione in una certa zona, una selezione in un'altra zona perché il rivelatore funziona meglio in una certa zona, c'è più risoluzione, per esempio. Dopodiché il punto cruciale è verificare dai dati che l'aspettazione per il fondo è corretta, perché non si può fidare delle simulazioni, uno deve trovare dei modi per verificare che tutta la parte di aspettazione di fondo è corretta e si valuta l'efficienza del segnale usando la simulazione perché tanto anche se conosco l'efficienza poco bene non importa, se invece di aspettarmi 7,20 ne aspetto 7 o 5, questo non fa una differenza sostanziale. Poi dopo si fa un'analisi statistica per cercare qual è la più grande sezione d'urto che io posso riuscire a mettere nei dati. Cioè vedo quanto riesco, i miei dati quanta sezione d'urto di X mi permettono di mettere. Come vedete da questo grafico qua capite che riuscite a accomodare una sezione d'urto che è circa 5 volte quella del modello standard, perché questi rossi o questi neri non si distingue nella statistica che uno ha. Il plot tipico che vedrete molto spesso è questo. Allora le analisi sono ottimizzate per l'esclusione, cioè per dire qui non c'è il bosone di X e il risultato è espresso per ogni massa dicendo quale sezione d'urto riesco a escludere al 95%. Questo vuol dire che io nel grafico di prima continuo a mettere eventi più di quelli che farebbe il bosone di X fino a dire a questo livello qui più di questi non ce ne posso mettere perché sono arrivato compatibile con i dati. Questa qui è la sezione d'urto che io escludo al 95% e questa qui è la sezione d'urto che io segno qui sui punti con i dati sperimentali. Questa linea tratteggiata alla centrale è, scusate, questa sezione d'urto non è espressa in valori, in millibarn, ma è espressa in rapporto alla sezione d'urto del bosone di X, che cambia la massa, però per ogni punto dice qua io ho escluso una sezione d'urto che è 4 volte il bosone di X, qua una che è 6 volte. Quindi quando si arriva a 1 vuol dire ho escluso la sezione d'urto del bosone di X. Questa linea tratteggiata alla centrale misura la sensibilità dell'analisi. Cioè io prendo, faccio la mia analisi su dati simulati e in base ai dati simulati dico mi aspetto che se la statistica, con la statistica che ho in una certa, con un certo numero di dati che ho raccolto, riesco a escludere una sezione d'urto per esempio di 2, di 3 volte la sezione del modello di X e così via. Quindi questo qui dice quanta la mia analisi è performante e la banda di errore, cioè come fluttua statisticamente il risultato, perché questo qui mi dice quanto è il valore medio, poi come flutta statisticamente il risultato è dato dal verde e dal giallo a 1 e 2 sigma. I punti vicini sono molto spesso correlati perché se non c'è risoluzione in massa, è io una misura che mi può contribuire contemporaneamente a 120 jev e mi può contribuire pure a 125, sono gli stessi eventi, non sono distinguibili. questi qui sono due plot importanti, questo plot qui mostra quello che è il potenziale di esclusione, cioè esattamente la stessa linea che vi ho fatto vedere prima, per i vari canali. Allora questo qui è tau tau e questo è bb barra, si conto già dal trasparente prima che questi qui sono meno performanti e questi qui non riescono a escludere il modello standard da soli. Poi avete W, W, gamma, gamma e 4 leptoni che più o meno hanno la stessa sensibilità. Quindi ognuno di essi singolarmente può escludere il modello standard. Globalmente vedete che noi possiamo escludere il modello standard a livello di metà della sezione d'urto dell'X. Quindi i dati raccolti quest'anno, 10 phantom banni inversi sono sufficienti per poter escludere il modello dell'X ovunque se non esiste. Questo plot qui invece è un altro plot molto importante, lo vedete ripetuto varie volte nel seminario, che mostra il potenziale di scoperta. Questo qui, il significato è esattamente questo. Supponete che il modello standard, che il bosone di X non esista. Quant'è la probabilità che nella statistica presente una fluttuazione statistica del modello standard mi simuli l'esistenza di un bosone di X? Quindi, come vedete, qui il rapporto è diverso tra i canali. Il canale per esempio in 4 leptoni, che aveva pochi eventi ma con fondo bassissimo, è molto buono per una scoperta. Questo qui è il gamma gamma e questo qui è il ww. Ma la cosa importante è che con 10 phantom banni inversi la probabilità è che il modello standard mi simuli l'X è piccolissima, è 10 alla meno 8, è 6 sigma. Abbiamo abbastanza dati per o escludere o trovare l'X. Quindi diciamo 10 inversi phantom banni in CMS o in Atlas sono sufficienti per dare una risposta esiste o non esiste il bosone di X. E come vedrete noi daremo entrambe le risposte. Che non esiste in un grande range e che esiste a una certa massa. O perlomeno. Quando dico esiste non necessariamente il bosone di X è il modello standard, ma questo è un altro discorso. Quindi ieri sono stati mostrati da un seminario al CERN, che tutti voi avete visto, dalla Fabiola Gianotti e da Joe Incandela, risultati su un campione di 5 phantom banni inversi presi l'anno scorso, più 5 phantom banni inversi raccolti quest'anno. L'energia è aumentata, con l'energia è aumentata anche un po' la sezione d'urto. E diciamo in Atlas si sono concentrati solamente su 4 leptoni e gamma gamma, che sono i canali con buona risoluzione in massa, perché sono meno sensibili al pileup e gli altri canali li hanno presentati solo sui dati dell'anno scorso. E ci hanno presentato invece tutti i canali e 4 leptoni, gamma gamma e anche www, BB e tau tau. Ora andrò velocemente attraverso i vari canali e poi arrivo a delle conclusioni. Questo qui è un evento tipico di BB. Qui c'è un background altissimo di QCD, quindi l'unica maniera per studiare l'X che va in 2B è studiare la produzione associata con un bosone vettore. B, Z, X, Z con la Z che va in 2 neutrini, come in questo evento, oppure la Z che va in 2 leptoni. In questo evento è interpretato, c'è una grossa missing energy di 200 GeV, è interpretato come una Z che va in 2 neutrini, che rincula e in questo jet coalescono 2B, il jet è taggato due volte, quindi i due jet che sono vicini vengono ricostruiti e questo qui viene identificato come un decadimento dell'X in BB barra. Questo qui vedete quello che si vedrebbe in vari canali, questo qui è elettrone-elettrone più BB barra, il rosso sarebbe il segnale di un X previsto. Vedete che la sensibilità, come abbiamo già visto prima, non è tale da escludere il modello standard e questo qui è il segnale a 125, quindi c'è un accesso completamente compatibile con la statistica. Questo canale non è conclusivo da questo punto di vista. Il canale in Tau, il modo in cui, tra i vari sistemi di produzione, gli eventi Tau riescono a separare meglio il segnale dal fondo quando la produzione avviene con quello che si chiama vector boson fusion. Due quark che emettono due W doppi, lo stato finale due jet e il decadimento dell'X. E questo qui è un evento con i due jet e poi vedete qui un Tau jet e un missing energy e un muone, che questo qui fa la quota Tau. Qui vedete un po' il segnale, quello che dicevo prima, qui vedete il segnale di un X come si vedrebbe, questo qui impunteggiato rispetto ai dati sperimentali, vedete che la sensibilità è giusto giusto per poterla vedere e quello che si vede è che appunto la sensibilità è appena sopra il modello standard. I dati mostrano che noi escludiamo a 125 GeV la presenza del bosone di X. Cioè il decadimento dell'X in due Tau non viene visto a 125 GeV. Una giusta domanda è quanto saremmo sensibili se esistesse una produzione dell'X con il rate previsto dal modello standard e questo qui si vede in questo istogramma, noi dovremmo misurare in questo stesso grafico invece che dove stiamo qua dovremmo misurare qui. Quindi diciamo non è una cosa statisticamente a molte sigma, però vediamo chiaramente una mancanza di produzione dell'X in Tau Tau. L'X in W, W, due leptoni, due neutrini e le correlazioni di spin, il fatto che l'X abbia spin zero porta sì che i due leptoni debbano essere vicini fra di loro, quindi qui avete un buone e un elettrone che sono vicini fra di loro e qui la missing energy dovuta ai neutrini del decadimento del W. È un esperimento in cui non c'è risoluzione in massa, quindi serve un controllo del fondo, è cruciale, per esempio questo qui si controlla qui il decadimento del spettro dovuto alla produzione standard di coppie di W e poi si estrapola nella regione di ricerca. Vedete che sostanzialmente i dati in questa regione sono un po' più alti che il fondo in media, questo qui è quello che vi aspettereste come produzione dell'X, ci sono vari sample di controllo che servono per validare tutti i fondi in questa regione e vedete meglio in questo grafico, alla fine la zona sensibile è questa e vedete che qui c'è un eccesso di dati rispetto alla predizione del fondo e dove uno si aspetta, questo qui è il plot dell'angolo tra i due leptoni e questi qui sono sample diversi, questo con zero jet e questo con un jet. Il risultato è questo, i dati mostrano un eccesso sopra il valore aspettato in tutta questa regione, molto largo, questo qui semplicemente perché nel momento che noi ricostruiamo la massa LX, ogni W che cade con neutrino, la risoluzione in massa non c'è, praticamente un evento che contribuisce a 130 contribuisce anche a 120, a 140, quindi è molto coerente, deve essere molto coerente questo aumento e questo qui è come compare nei due set di dati, zero jet a 7 TEV e zero jet a 8 TEV, insomma gli eventi scatterano, c'è poca risoluzione, però in media sono vero. Una domanda anche in questo caso come apparirebbe un segnale di un X standard in questo canale e apparirebbe lungo questa banda violetta, quindi vedete che quello che noi misuriamo è proprio al centro di quello che uno si aspetterebbe se ci sta un X a 125. Questi qui sono tre canali importanti ma nessuno dei quali permetterebbe di dire abbiamo trovato il bosone di X. Adesso cambiamo marcia e andiamo a parlare dei due canali che sono più sensibili e il primo dei quali è uno dei quattro leptoni e poi per ultimo parleremo del gamma gamma che è quello più sensibile. Questo è un trasparente tecnico che ho mostrato ieri Fabiola che ho voluto ammettere semplicemente per ricordare che i due esperimenti hanno fatto un lavoro fantastico di migliorare la prestazione per ottimizzare l'indicazione dei leptoni per estenderele angolarmente, per migliorare l'uso della radiazione dello stato finale. In questo grafico vedete un picco reale in colore 1, 2, 3 picchi simulati e questo è in funzione della massa dei quattro leptoni. Questo picco reale che si vede qui in ATLAS e qui in CMS, notate la scala diversa, 5 eventi per Gev e 4 eventi per Gev. Questo picco reale è dovuto al caso in cui faccio l'interazione quark-anti-quark che mi fanno una zeta e la zeta decade in quattro leptoni, un evento molto raro, però tramite un grafico di questo tipo posso avere quattro muoni nello stato finale che hanno la massa della zeta. Questo qui viene osservato in ATLAS, meglio in CMS e dà una sorta di calibrazione che riusciamo a fare le cose per bene. Dopodiché, questo qui è il segnale simulato di un X a 125 Gev. La cosa importante è vedere che qua il fondo è piccolo e che questo piccolo eccesso ha una certa quale significatività, di qualche per cento. Diciamo tutto dentro, in ATLAS, in questa regione, si aspettano 5 eventi di produzione di X, in una regione di 10 Gev e 25, si aspettano 5 eventi di produzione di X e 5 eventi di fondo e ne osservano 13. CMS si aspetta 8 eventi di X, 4 di fondo e ne osservano 9. Questo qui è un grafico in cui ho modificato l'aspetto del grafico di ATLAS per mostrare la stessa scala delle due misure. Questo qui, diciamo, è il segnalino di ATLAS in quattro leptoni e questo qui è quello di CMS. La cosa importante è fare un plot congiunto, perché in questo caso si deve vedere una cosa molto più chiara, perché il fondo è piccolo e, come dicevo, la significanza cresce velocemente con la luminosità. Passare da 10 a 20 fa una differenza, ma purtroppo non avevo i dati di ATLAS numericamente per poter fare un unico plot della cosa. CMS ha fatto anche un'altra cosa. La Z che va in quattro leptoni, assumendo, ci sono due canali, la produzione normale di Z a Z, ognuno che va in due leptoni, oppure X che va in due Z e va in due leptoni. Quando uno fa un X, l'X è a spin zero. Quindi ci sono tutte correlazioni fra gli angoli con cui questi leptoni decadono. Questo qui può essere studiato con quello che si chiama una matrix element analysis, in cui si usa proprio, si dà la probabilità evento per evento della configurazione angolare relativa dei vari leptoni, chiamata mela, e in questo grafico vedete la massa verso la variabile mela. E vedete che questo qui col fondo, il colore dice come si aspetta per la produzione di Z a Z, qui come si aspetta per la produzione di X. Questa proiezione, la proiezione in quest'asse, l'ho riportata qua. In rosso è il segnale di X, in hashed è il segnale di Z a Z. Quindi vedete che praticamente più alto mela, più la configurazione assomiglia all'X. E qui vedete che c'è un cluster di eventi alta massa, che butta bene. E diciamo, se faccio una cosa meno efficace di quella che fa il programma di ottimizzazione, ma faccio semplicemente un taglio a 0.5, guarda che c'è sopra, e vedete che si passa da 8 eventi con 4.5 aspettati e 9 osservati, che c'è la probabilità che 4.5 fluttui a 9 e 2%, a un caso in cui ci sono 5 eventi di X aspettati, 1.3 aspettati solo dal fondo e 5 visti, e la probabilità che 1.3 fluttui a 5 è 3 per 1000. Quindi questo qui vi dice quanto è importante sia fare quest'analisi angolare per aumentare la sensitività. No. Questo qui sono i due plot di ATLAS e di CMS vis-à-vis, e l'esclusione aspettata a 125.9 in ATLAS e .6 in CMS. Si vede che escludiamo entrambi una regione importante, a destra di 130 GEV, e poi c'è un accesso che è chiaramente importante in entrambi gli esperimenti, intorno a 125 GEV, che corrisponde ai picchi che vi ho fatto vedere prima. Se uno analizza questi picchi in termini di p-value, come probabilità che il fondo flutui quanto il segnale, qui si vede in ATLAS il p-value complessivo, i dati del 2012, i dati del 2011, che sono quindi il dataset coerente nei due casi, e si aspetta un... diciamo, in caso di produzione del modello bosone di Higgs con rete e modello standard, uno si aspetterebbe che questo p-value abbia una significanza di 2.6, invece ne osserva 3.4. Cioè ATLAS ha avuto un misurato più oltre il modello standard di quello che pensava. CMS è pure la stessa cosa, ha due... un segnale sia negli dati del 2008, che ne sono... 2011 e 2012. Nel caso di CMS la sensibilità è più importante, dovuta a mela e dovuta alla risoluzione in massa, che è un po' meglio. Ci aspettavamo 3.8 sigma e ne abbiamo osservati 3.2. Cioè noi abbiamo visto un po' meno di quello previsto dal modello standard, ma sono numeri piccoli, la differenza di 1 o 2 eventi in quel plot cambia completamente in un verso o nell'altro la situazione. Però insisto, quest'analisi, col fatto che il fondo è piccolissimo, è sensibile con pochissimi eventi. Quindi la fluttuazione a destra o a sinistra di un evento ti cambia il risultato. Come questo qui, il valore è un fit, qual è il valore del modello standard, il valore della sezione d'urto compatibile al meglio con i dati, in ATLAS è 1.3, appunto misura un po' di più, in CMS è 0.9 e la media è 1.1, con l'errore grande. Quindi diciamo una cosa completamente compatibile con il modello standard. Il canale principale è X che va in gamma-gamma, questo qui richiede un fondo irriducibile, cioè di eventi QCD di circa 30 picoburn, in un grosso intervallo di massa, e un fondo riducibile quando un jet fa finta di essere un fotone, viene ricostruito con un fotone che è circa 200 nanoburn e con due jet, che entrambi potrebbero far finta di un fotone, 500 microbar. Quindi devo avere una riggezione jet-fotone importantissima per poter portare questi valori a livello del 30 picoburn. Devo essere capace di dire jet, questo è un jet, questo è un fotone in magnità importante. In più, ATLAS ha un'ottima gradualità del calorimero elettromagnetico che permette longitudinalmente di fare queste separazioni. Per questa misura è importantissima la calibrazione dell'energia del calorimero. Vedete, questo è un plot impressionante di ATLAS, questo qui è l'un per mille, più o meno un per mille, mostra la stabilità in funzione del tempo, da marzo fino a ottobre dell'anno scorso, del risposto al loro calorimero. È una cosa che, immaginate questo calorimero, è grande come questa stanza, quindi non è una cosa assolutamente incredibile. Vuol dire controllo in temperatura, calibrazione elettronica, insomma, mantenere un grafico così, una risposta all'un per mille è eccezionale. Questo qui è un grafico, la scala, questo qui deve essere l'un per cento. In CMS, i cristalli modificano la loro risposta alla luce in funzione della luminosità. Nascono centri di colore, e quindi la qualità di luce che arriva cambia col tempo, poi recupera, quando non funziona la macchina risale. Questo qui viene monitorato, deve essere calibrato, e vedete i dati prima e dopo la calibrazione. Questo qui, per farvi vedere, la statistica che abbiamo sulle zeta, questo qui sono eventi per mezzo GEV, qua ce ne sono 2500, sono elettroni selezionati per avere piccola o non poca Bremstralung, e si vede quanto bene possiamo fare la scala di energia. E questa qui in Atlas, in simulazione, loro mostrano quanto la loro risposta in massa dipende dal pile-up, e dipende poco, perché Atlas riesce a misurare il punto di partenza dei fotoni col calorimetro che punta. Sì, di suo uomo, fuori dalla presa. Questo qui è il plot del funzione della massa dei due fotoni, il numero di eventi in Atlas, e si vede a occhio, che qua ci sta qualche cosa che è fuori dalla statistica, e se guardate il plot in cui fate un fit al fondo, il fondo è fittato con un polinomio al quarto ordine, vedete che si vede un picchettino. Questo qui è un plot ICMS, fatto in una maniera un attimino diversa, in cui gli eventi sono selezionati per categorie, diciamo, di risoluzione. Quelli che hanno migliore risoluzione e quelli che hanno risoluzione peggiore. E poi gli eventi sono plottati con un peso che dipende dal rapporto segnale-fondo in quella classe, in maniera tale da visualizzare l'effetto. Però gli errori statistici rappresentano quello che è effettivamente la cosa, e si vede che anche in questo caso si vede un piccolo picchettino a questo livello, e qua si vede l'ingrandimento. Insomma, questo qui è, se volete, il segnale della presenza del bosone di ICMS, questo eccesso di eventi sopra a questo fondo. Questo qui, nel caso dei due fotoni, è anche importante andare a studiare separatamente la classe di vector boson fusion che ha piccolissima statistica. Vedete, i dati qua sono pochi pochi, però è anche poco fondo e sono classiche che hanno un impatto importante. Questo qui sono le quattro classiche in cui vengono separati i dati di ICMS. Scusate, questo slide non l'ho appdatato, è ancora con la statistica dell'anno scorso. E questo qui si vede, separato nelle varie categorie, il segnale che si vede. Questo qui è 0, questo qui è il valore medio, che in Atlas è 1.9 più o meno 0.5. Qui sono le categorie che hanno più sensibilità e si vede che, chiaramente, c'è una media diversa da 0 e che, anzi, questa media è anche sopra 1, vuol dire che Atlas ha misurato circa il doppio del rate fotone-fotone di quello che si aspetta dal modello standard. E questa è la stessa cosa in CMS, anche CMS ha misurato un rate più elevato, meno che in Atlas, 1.5 più o meno 0.4 e queste qui sono le categorie più importanti e l'anno scorso avevamo un eccesso molto importante in DBF che in quest'anno invece sia un po' ridotto. Comunque, la media delle due sono 1.7 più o meno 0.33. Questo qui è a 2 sigma da 1 ed è sicuramente una cosa molto tantalizing, perché, diciamo, se la statistica più grande conferma questo segnale che è diverso da 1 chiaramente è un segnale importante perché l'IGS è un portale verso una fisica però bisogna stare attenti. Questo è un canale in cui c'è molto fondo rispetto al segnale, il segnale fondo è piccolo quindi è più naturale vedere un segnale se c'è una sovrafluttuazione che una sottofluttuazione. Una sovrafluttuazione quindi è più probabile che una sottofluttuazione quindi questo bisogna tenere in mente e bisogna per cui è importante avere più statistica. Questo qui sono i due segnali in CMS del 95% di esclusione. Questo qui è uno quindi si esclude una buona parte e c'è un picco coerente intorno a 125. L'analisi di Atlas c'è un valore aspettato di 0.82 e quella di CMS di 0.75. Il p-value vedete in Atlas ci sono molta coerenza tra i due anni e il p-value ha significanze che sono 4.5 sigma anche se il valore aspettato è 2.4 perché il rate è misurato circa il doppio. In CMS lo stesso una coerenza tra i due anni e una significanza di 4.1 sigma in cui quello che si aspettava è 2.8 quindi vedete noi siamo arrivati presto a vedere un segnale del bosone X perché sia Atlas che CMS hanno misurato in gamma gamma un fattore più alto di quello che non si aspettava e questo essendo il segnale dominante è quello che dà la significanza più alta. Combinando tutte queste cose insieme tutti i vari canali questo qui è CMS e diciamo si esclude a 110 a 122.6 e a 129.7 a 558 e in CMS si esclude da 110 a 122.5 e da 127 a 600 gem questo qui oggi che noi discutiamo la scoperta del bosone X in questa zona sembra poco importante ma non lo è ci sono moltissime teorie in cui ci sono più di un bosone X quindi la ricerca continuerà anche con sezioni di urto di e con aumentare la luminosità saremo in grado di stabilire di stabilire bene il qual è questo effetto in CMS se uno prende i due canali che hanno le risoluzioni in massa elevata arriva a 5 sigma 4 e 7 aspettati e 5 osservati si aggiunge il W che sono i canali più alta sensibilità 5 e 2 aspettati e 5 e 1 osservati si aggiunge tutti i canali 5 e 9 aspettati e 4 e 9 osservati perché come vi ho fatto vedere in B e in Tau non si vede la combinazione completa nella ATLAS e CMS 4 e 6 aspettati 5 osservati in ATLAS in CMS 5 e 9 aspettati 4 e 9 osservati quindi vedete che CMS è stato un po' fra virgolette sfortunato ha avuto un po' meno statistica di quello che aspettava e ATLAS ha avuto un po' più di statistica di quello che si aspettava Sì le analisi le analisi la risoluzione dei mu conta che è un fattore 2 sul gamma di larghezza nei 4 leptoni in analisi abbiamo fatto tutto questo mela che ha fatto un fattore importante in significatività abbiamo in analisi discutiamo dopo se non posso fare un elenco lungo e questo eccesso è compatibile nello standard model e questo qui è quant'è la sezione d'urto di tutti gli eventi questo qui si vede in ANA e questo qui è in CMS e questo qui è fuori dal valore della massa deve venire 0 perché non c'è un altro bosone di Higgs e quindi questo è quello che si vede questo eccesso qui è dovuto a quel picco che si vede nei dati di A7 Tev di CMS dei fotoni c'è un altro picco a fianco al picco principale qui vedete sia in ATLAS che in CMS la compatibilità con 0 e poi con 1 e il valore medio di MU è 1.2 più o meno 0.3 questo in CMS si vede il valore medio è un po' sotto 1 i vari canali li vedete meglio in questa compilazione in cui li ho messi insieme e vedete che c'è una bella coerenza nei dati diciamo i dati di ATLAS di B, Tau e V sono ancora i dati solamente su metà della statistica quindi aspetto di avere questi con varie errori più piccole però insomma c'è coerenza abbastanza dentro gli errori di quello che si vede cioè tutti e due gamma gamma sono sopra il ZZ sono tutti e due vicino a 1 e il W sono tutti e due più bassi sì PB, Tau, Tau e W sono solo 5 tanto bani e la media in ATLAS è 1.2 più o meno 0.3 in CMS è 0.8 più o meno 0.22 insieme fanno 1 1 è sopra 1 è sotto la media fa il germe globale massa questo qui è un plot in cui vedete la seguente cosa in funzione della massa si fa uno scan della massima sezione d'urto quindi questo qui è il punto di vista di urto del valore della massa quindi questo qui è uno scan della likelihood in due dimensioni massa verso sezione d'urto questo qui è una sigma 68% livello di confidenza questo qui è 2 sigma per ATLAS nel canale 4 leptoni e questo qui nel canale gamma gamma questo qua in CMS è in verde il gamma gamma il rosso i 4 leptoni in blu il gamma gamma con vector boson fusion e questa qui è la media il CMS quota 125.3 più o meno 0.6 in questo grafico è qua ATLAS non quota un numero insomma è compatibile forse la misura dei fotoni di ATLAS è leggermente più alta ma non in maniera proprio scandalosa si può fare anche un altro esercizio che ha fatto il CMS e la cosa importante sono gli accoppiamenti dell'IGS ai vari bosoni e fermioni quindi non c'è statistica per fare un'analisi completa però quello che abbiamo assunto è che davanti a ogni accoppiamento c'è un termine che si può affittare per un accoppiamento con i vettori bosoni e un accoppiamento con i fermioni quindi due soli numeri invece che uno per canale diciamo e si può vedere la compatibilità dei dati 0 vuol dire non c'è l'IGS 1 vuol dire c'è un X nel modello standard 0 CF vuol dire un X che accoppia solo i bosoni vettori e non ai fermioni 0 CV un X che accoppia i fermioni molto improbabile e non ai bosoni vettori questo è il modello standard 1 1 questo è l'assenza dell'IGS questo qui sarebbe un X che accoppia solo ai bosoni vettori e questo qui sarebbe un X che accoppia solo ai fermioni quello che vediamo stiamo qua in mezzo cioè entro il modello standard è a livello di un di un di meno di 2 sigma più di una sigma meno di 2 sigma è il il miglior fit chiaramente ci vuole ci vogliono più dati per vedere queste cose in conclusione una risonanza stretta è stata osservata all'altra del cemestre a massa vicino a 125 jev l'osservazione è consistente in entrambi gli esperimenti e in entrambi i datasette annuali è una osservazione robusta la probabilità è che questo eccesso è fondo la fruttuazione del fondo è 10 alla meno 7 in ogni esperimento separatamente e diventa 10 alla meno 6 in ogni esperimento la probabilità che questo eccesso potrebbe capitare in un punto qualsiasi del plot però i due esperimenti insieme sono ben oltre le 6 7 sigma quello che abbiamo visto è compatibile con un X lo standard model però ci sono effetti a due sigma che sono interessanti e che se confermate dalla statistica che deve essere raccolta quest'anno vi informo che il run è stato ufficialmente esteso di tre mesi non è una fino alla fine dell'anno non si ferrano gli heavy ion per massimizzare la quantità dei dati raccolti vi ricordo che l'HC poi l'anno prossimo va in una fase di mock-up e il make-up metterà a posto tutte quante gli splice e potremo andare quindi vicino a 14 Tev ripartire fra due anni quindi se fermiamo per due anni per un anno e mezzo è importante raccogliere quanti più dati possibili per vedere questi effetti no non lo so non sono sicuro lo fanno? ah io ho rimasto lo facevo va bene va bene va bene va bene grazie questo è quello che volevo mostrare applausi 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 però ci devi ricordare che tutti i diversi maggiati perché non lo scontri 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 beh uno uno è questo questo qua cioè noi siamo è perché non lo scontri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.